Per me è stata una scoperta perché io ho iniziato a venire qua con lui, quindi materialmente sono due o tre anni che veniamo qua. A me piace tantissimo perché noi siamo venuti anche non nel periodo estivo, quindi siamo venuti a maggio, siamo venuti a Pasqua, veniamo a settembre e ci godiamo di più il centro storico, le gite magari su in collina, siamo andati a vedere San Leo, siamo andati comunque a fare tutto il giro del centro storico sulle colline San Marino ed è molto molto bello, a me piace tantissimo assolutamente. Anche San Giuliano, all'anno scorso abbiamo fatto la gita in barca, bellissimo anche quello e per me sono tutte zone nuove perché io con i miei sono sempre andata in Liguria, quindi è stata una bella scoperta. Tutto un altro tipo di vacanza, esattamente, per me è stata una scoperta e torneremo sempre tutti gli anni perché comunque... Poi c'è sempre qualcosa di nuovo da fare perché in realtà ci sono talmente tante cose da vedere. Sì, 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 assolutamente, non riesci sicuramente a vederle tutte venendo 15 giorni all'anno, assolutamente. Poi è bella questa cosa anche che veniate in periodi diversi dell'anno, quindi l'avete vista un po' in tutti i suoi colori, no? Sì, anche a dicembre siamo venuti. Sì, anche a dicembre siamo venuti.